La sperimentazione è drammatica, traffico in tilta e automobilisti inferociti per le lunghe code e le lunghe attese. La rotatoria in largo Papa Giovanni Paolo II è stata bocciata prima dai Foggiani e poi dal sindaco Franco Landella. Altro che mobilità sostenibile, quindi, perché quell'installazione avrebbe prodotto solamente un accumulo smodato di traffico. Così Landella fa marcia indietro e ritira il progetto sperimentato in mattinata di martedì. Si trattava per l'appunto di una sperimentazione fondamentale per verificare sul campo l'impatto della previsione inserita nel PUMS, spiega il sindaco di Foggia. Un monitoraggio reale era dunque decisivo per comprenderne l'impatto reale sui volumi e sui flussi di traffico. Questa prova ci ha consentito di stabilire l'esigenza di rivedere e rimodulare l'ipotesi elaborata dall'ingegner Stefano Ciurnelli e contenuta nel piano urbano della mobilità sostenibile, tenendo conto delle criticità emerse nel corso della sperimentazione. Ha detto Landella. Cosa ha comportato la nuova e possibile rotatoria? Solo disguidi a quanto sembra. Una strozzatura del traffico veicolare dell'area, con informarsi di lunghe code che hanno aumentato sensibilmente i tempi di percorrenza e hanno provocato disagi per gli automobilisti e per i mezzi pubblici. Ha messo Landella.